In debita percezione di bonus edilizi, la Guardia di Finanza di Messina ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Barcellona a Pozzo di Gotto, con cui è stato disposto un provvedimento di sequestro preventivo per circa 1,7 milioni di euro nei confronti di 4 persone e di un istituto di credito. Le investigazioni hanno avuto origine dall'approfondimento di alcune anomale movimentazioni di denaro consistenti in giroconti bancari disposti dagli stessi indagati a favore di conti correnti esteri loro riconducibili, adducendo quale causale dell'operazione a credito per eccessione crediti d'imposta. Sulla base dei preliminari accertamenti, i finanziari della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo hanno quindi riscontrato come gli ingenti flussi finanziari ammontanti ad oltre 800 mila euro provenissero a loro volta da un istituto di credito che aveva monetizzato ad alcuni contribuenti i crediti delle agevolazioni fiscali riconducibili ai cosiddetti ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus recupero, patrimonio edilizio, ceduti tramite la piattaforma cessione crediti delle agenzie delle entrate. Indagini più approfondite hanno reso possibile la ricostruzione di ulteriori ingenti crediti ottenuti all'inserimento nei sistemi informatici di mandaci dichiarazioni appositamente predisposte dagli indagati al solo scopo di ottenere i vantaggi fiscali messi a disposizione dallo Stato per la ristrutturazione del patrimonio edilizio. In particolare le fiamme gialle mamertine acquisivano le indagini come i richiedenti non avessero appaltato ad alcuna ditta i lavori di manutenzione né tantomeno ricevuto alcuna fattura corrispondente agli importi autocertificati nelle istanze. E ancora nessuna traccia delle obbligatorie comunicazioni di inizio lavori, le cosiddette CILACILAS presso i competenti uffici comunali, e gli indagati non risultavano neanche proprietari degli immobili o conduttori a qualunque titolo.